Siamo a Capaccio Pestum, in via delle Tavernelle, nell'abitazione alle nostre spalle si è consumata una tragedia familiare. Una 17enne ha coltellato a morte la nonna, la 76enne Ermene Gilda Candreva. La giovane è poi scesa in strada, in stato di sciocca, è stata arrestata. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Pare che la ragazza abbia detto di aver reagito a un'aggressione. È stata rinvenuta a seguito di questa dinamica relativa a un'aggressione contro la nonna che ha colpito mortalmente con più colpi e fendenti di coltellate. Attualmente è ristretta presso il carcere minorile di Nisida. L'arma è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro. Si tratta di un coltello a serramanico. Stiamo ricostruendo la dinamica e cercando di fare più approfondimenti possibili per addivenire quello che è il movente dei fatti. Un dramma che ha sconvolto la città dei Templi. Mi dispiace tantissimo, proprio tanto. Perché era vicino, era cugina che non era mio marito. Ogni tanto gli amiamo a camminare assieme, lei portava il cagnolino, andavamo a sparare, cioè così. No, no, è una brevissima persona. Mi è dispiaciuto da morire. Non ha aggredito mai a nessuno, nemmeno animale. Stiamo sempre assieme. No, no, era una brevissima persona, non si muotava, sa fine. È un fatto cruento di sangue, davvero è rimasto sgomento a tutta la comunità. Una ragazza di 17 anni coinvolta in un delitto di sangue con la nonna, ma una tragedia che non solo vede vittima la nonna, ma anche la stessa ragazza. Penso ai genitori, il dramma dei genitori.